bella a tutti ragazzi eccomi qua per fare la rubrica e 5 punti con o innanzitutto sotto la fra free marcus 88 us box one mickey bonuna channel tv saluto demo steva vicio emulare maximo murgia nicola toscano ha detto le sigle intro saluto tutti i miei fratellini e me sorelline ragazzi che sto di novate ragazze mi devo di novate mie nipoti pro nipoti tutti quanti a me dolce metà saluto tutti i ragazzi che continuano a seguirmi a credere in me io vi ringrazio ci sono perché voi ci siete seguitemi su tutti i social network che le vedete delle belle niente ragazzi saluto iori saluto ragazzi il gruppo di whatsapp di giocare che passione noi youtuber e noi disbox one 5 punti con ho appena finito di provarlo giocato 3 4 partite online non ho fatto la campagna niente ragazzi che dire spettacolo spettacolo perché graficamente bellissimo le mappe sono immense la giocabilità una figata pazzesca i dettagli sono dettagliatissimi spettacolare che dire lo consiglio straconsiglio ne vale tutti i soldi non così sapete che quello che c'entra confezione e infatti c'è scritto vedete vediamo se si vede non da vendersi separatamente ma chi lo vende tanto per dirvi ecco qua poi ragazzi non ho ancora parlato la modalità zoom ho parlato niente ho fatto solo quattro partite online e ho capito che questo gioco fa paura fa paura perché mi incrocio tra titan phone e codi e spettacolare quando andate sott'acqua in certe mappe se cadete nell'acqua non morite che dire il suo gioco ragazzi prendetelo pieni voti poi avete la mappa dentro in omaggio questa mappa qui veramente spettacolare ci stavo giocando con dei ragazzi adesso sto installando nifo speed ma però ci punti con l'info speed niente io sono più che soddisfatto è bellissimo scelta la classe ci sono parecchi classi ti sbloccare le altre e non sono un asso questo gioco però me la cavicchio e mi piace assai mi sta piacendo tanto conosciuto già tre ragazzi italiani grazie a dio si ho trovato tre ragazzi italiani che mi hanno chiesto l'amicizia l'ho accettata e è bellissimo ragazzi molto 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 bello veramente ripeto è consigliato al massimo livelli domani lo prendo per pc perché almeno gioco lo giocherò su pc per chi ha il pc da gaming anche perché sapete che comunque farò un upgrade per natale su questo pc come avevo già detto cambiando cioè aggiungendo dei pezzi un altro harddisk masterizatore una scheda video ancora più potente di quella che ho che è potente e basta perché il resto c'ha dissipato già tutto perciò mostro così solo che almeno l'harddisk principale che adesso da un terabyte voglio farlo diventare da 3 terabyte l'harddisk principale visto che ho tanti giochi su steam tanti giochi che mi regalano mi intenzio di prendere tanti giochi per pc e giocare tanto su pc visto che ho preso lo steam control e non ho ancora fatto questa cosa qua dello steam link lo farò in questi giorni ragazzi tranquilli niente ragazzi io lo sta consiglio giocatelo e chiedetemi bell'amicizia che giochiamo insieme sono solo al terzo sono al secondo livello perché ho appena iniziato intanto sto guardando lì perché sto sto accendendo la giornata di full speed che dire naga io vi saluto vi saluto con con il multiple course 3 fa paura è bellissimo e merita merita tanto io vi saluto vi rimando al prossimo video che sarà domani quella cosa che dovrà arrivare domani non arriva farò una chiamata vedrò come mai dovrà arrivare domani ma non arriva però domani farò video acquisti di quello che prenderò prenderò tanto sapere già però per pc e poi vediamo cos'altro prendere perché ho preso tutto settimana quella che viene inizio palestra martedì finalmente farò un video anche degli esercizi che faccio in palestra faccio fare risate ragazzi come fratellino fabietto entri ragazzi cinque minuti con con beauty black of 3 consigliatissimo ciao belli ci vediamo alla prossima mi raccomando sempre sintonizzate su questo canale e su tutti i social network in settimana creerò un nuovo twitch nel mio canale per me e ci vediamo presto ragazzi bella a tutti ciao 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 ciao